Parte a Vigevano una maxi campagna di test per il coronavirus nel mondo del volontariato. A organizzarla è la Croce Rossa di concerto con il coordinamento volontariato e la Caritas. L'obiettivo è di mettere a disposizione di tutti coloro che operano nel volontariato la possibilità di effettuare un test periodico per verificare la propria condizione di salute. Sono previsti 5.000 test in 4 mesi presso il polo Ugart di Via Pisani debitamente attrezzato. L'obiettivo è quello di tenere sotto controllo persone che, prestando servizio di soccorso o di aiuto nel sociale, sono sottoposte a un livello di rischio superiore alla media. Tutti i volontari della nostra comunità potranno, e sono circa 5.000, noi stimiamo i tamponi che verranno erogati nei prossimi 4 mesi, potranno usufruire di questo servizio. Tutelando i volontari, che in questa prima fase ovviamente hanno operato e continuano a operare tuttora, tuteleremo la famiglia, le loro famiglie e anche il resto della comunità. L'iniziativa ha un costo di 70.000 euro coperti dal contributo della Fondazione Piacenza e Vigevano. La Fondazione, con quest'ultimo stanziamento, raggiunge così la quota di 300.000 euro di contributi per contrastare la pandemia a Vigevano, tra finanziamenti per operazioni sanitarie, come il letto di terapia intensiva per l'ospedale, e attività di carattere sociale, come l'iniziativa Vigevano Solidale. Non è orientato esclusivamente ai volontari del soccorso, ma anche ai volontari che fanno attività sociale, per cui a tutti i volontari, insomma. Così facendo cercheremo di contenere il virus, facendo anche questo tampone, grazie alla disponibilità, alla capacità, alla professionalità della cosa rossa, periodicamente fino a quando i vaccini non saranno fatti a tutti. Il progetto prevede anche una convenzione con il laboratorio analisi dell'ospedale civile, dove si effettueranno i tamponi molecolari in caso di positività al test rapido. È stato un lavoro fatto in sinergia, come sempre, con Croce Rossa e con Fondazione Piacenza e Vigevano, che sono stati grandi, grandi protagonisti di questa pandemia. Per cui da parte del coordinamento, un grandissimo grazie, anche per il fatto che viene dato rilievo ed importanza alla figura del volontario, non soltanto in ambito socioassistenziale, ma anche in ambito sociale.